Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio proporvi di analizzare quelli che sono stati gli incidenti accorsi nelle prime tre gare di questo nostro campionato, ovviamente non è per colpevolizzare o additare qualcuno ma è soltanto per, come dicevo, analizzare, studiare e riflettere su quelle che sono state un po' le problematiche in pista, con l'obiettivo di ovviamente intanto riflettere tutti e prendere coscienza di quello che succede in pista e di come fare o cercare di evitare che queste azioni succedano ancora nuovamente in pista. Su che cosa mi baso? Prima di tutto sulla mia esperienza personale per quanto riguarda il mondo della simulazione e del gioco in multiplayer online e secondo perché comunque esistono dei regolamenti ufficiali quali il FIA e nel nostro caso esiste proprio quello del TCR in cui c'è proprio un paragrafo dedicato agli incidenti in cui viene indicato che un incidente è una serie di fatti o azioni fatte da un piloto o altri che li coinvolgono in azioni del tipo aver creato una collisione, aver spinto qualcuno fuori dal tracciato, intracciato un sorpasso oppure aver tagliato la strada, insomma c'è tutta una serie di azioni indicate nel regolamento e quindi io non è che mi voglio basare su questo regolamento, ma per dirvi che non mi invento le cose e quindi di conseguenza vi propongo di analizzare appunto le azioni, ne ho prese un paio in modo tale che possiamo partire su una base sulla quale riflettere. Io inizierei subito a prendere questa azione, siamo a Magione, quindi la scorsa gara e vorrei che portasse la vostra attenzione sulla macchina verde che sta arrivando a bomba, eccolo qua, primo incidente diciamo che analizziamo, lo mettiamo a ralenti, praticamente questa auto verde, se analizziamo bene, qui si frena i 50 che è più o meno dove c'è il cavalcavia. Se noi torniamo indietro, vediamo che l'auto blocca le ruote praticamente ai 25 metri, quindi qui è un problema di anticipo. Il problema di anticipo ne avevo già parlato nei video in cui parlavo appunto dei consigli pratici per principianti, in cui parlo di anticipazione, ma parlo anche di spazio-tempo e soprattutto di distanza quando si insegue qualcuno, che bisogna tener conto di parecchi fattori, pur non essendo ad altissime velocità perché qui il rettilineo è corto, ma qui è un caso veramente palese in cui c'è un ritardo di staccata e si va a finire sull'altra auto e quindi di conseguenza la povera auto viola perché così si prende l'incidente, subisce l'incidente. Andiamo avanti, qui azione sempre un po' rapida dove si vede un altro angolo di questo incidente, però io qua vi propongo di guardare la macchina grigia e rossa che praticamente va a percorrere la sua curva, lo rimettiamo un po' indietro, magari con un fermo immagine, e la macchina che sta rientrando, d'accordo, quella bianca e arancione, praticamente cosa fa? Va a stringere la sua traiettoria, il che è sbagliato perché bisogna lasciare lo spazio, perché già lui è al limite della pista che sta all'interno. Questo che cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che quando uno dice prendete le applicazioni, prendete elicorse eccetera eccetera, poi queste cose qua ci sono persone che non lo fanno e purtroppo è un peccato perché sono delle applicazioni che qui avrebbero potuto dare una mano alla macchina arancione e bianca dicendo attenzione c'è qualcuno dietro che è molto molto vicino, perché ricordate che se io riesco a mettere un pezzo della mia macchina accanto alla vostra non vi autorizza a entrarmi dentro, dovete lasciare lo spazio per passare, punto e basta. Quindi anche qui si crea una situazione di disagio dove appunto la macchina che oltretutto chiude, subisce il danno perché si gira e in più ridà una botta a chi l'ha superato e lo fa girare. In ogni caso ragazzi tutte le azioni che vi dico oltretutto, oltre a analizzare e a cercare di riflettere alle azioni che succedono, dovrebbero essere tutte eseguite teoricamente da come l'abbiamo detto nel regolamento del campionato, da cedere la posizione. Io ho fatto un torto a qualcuno, mi fermo e questo è molto importante, però pochi lo praticano e io trovo questo non tanto bello perché per far scendere la frustazione di chi ha subito il torto, il fatto che io ti cedo la posizione è una specie di ti chiedo scusa, non l'ho fatto apposta, passo. E mi sembra il minimo, anche se si devono perdere 25 posizioni, non importa. Andiamo avanti e torniamo su quest'azione, andiamo sulla prossima azione, quindi sempre a velocità e qui è difficile da analizzare in tempo reale, però bisogna solo stare attenti. Facciamo un piccolo e fermo immagine in cui praticamente l'auto gialla arriva a cannone e qui uno dice mamma mia non la chiuderà mai la curva e invece no, la curva la chiude ed è proprio la macchina subito a destra che viene a chiudere perché è toccato da quello che sta dietro. Perché? Perché semplicemente la macchina che sta completamente a destra va a chiudere senza tener conto che c'è qualcuno accanto. È sempre la stessa cosa. Non avere la coscienza o la piena coscienza di dove stanno le altre auto fa sì che io non so dove mi posiziono, cioè non so se posso uscire fuori dalla mia traiettoria. Ed è questo che succede, guardate, bam, viene toccato e va a colpire l'auto gialla che aveva fatto un'azione comunque molto molto bella anche se non subisce danno, però intanto viene toccato e siccome ci sono i danni comunque può venire a influenzare sulle prestazioni dell'auto e in più si gira da solo. Quindi queste cose bisogna fare attenzione. Andiamo avanti e qui andiamo sull'auto bianca che praticamente ancora una volta in ritardo vado, tocco la macchina che sta davanti e che faccio scappo via. L'incidente di gara ragazzi può succedere, ci mancherebbe, ho sbagliato la staccata quello che è, ma il minimo è mi fermo. Cioè quello là non ha chiesto niente, quello è arrivato dietro, bam, botta fuori e me ne vado. Non esiste, non esiste assolutamente. In questo caso qua, per l'antisportività, io prendo e ti caccio via. Cioè non meriti, perché cosa stai correndo? Oltretutto sei ultimo, sei uno tra gli ultimi sei. Cioè cosa vai a vincere? Ti costa niente, ti metti di lato, lo fai ripassare e ci hai guadagnato in stima e rispetto di tutti quanti. È un peccato, perché non ci si ferma? Comunque andiamo avanti e qui bisogna analizzare, dopo che vediamo l'azione a velocità normale, qui l'auto blu esce fuori dal tracciato. Quando si esce fuori dal tracciato, non sto parlando di due ruote, ma in questo caso qua, perché l'auto blu è bianca, qui ha sbagliato totalmente la sua curva. È totalmente fuori, senza nessuno che lo abbia toccato. Giusto? Quindi vado fuori, perdo qualsiasi tipo di diritto. Non posso rientrare a cannone così ragazzi. Cioè questo mi sembra chiaro. È come se questo stesse passando con il rosso e ci siano altre macchine che passano e guardate le conseguenze, vado dritto perché non posso mai raddrizzare e quindi la macchina nera e rossa prende la botta. E per frustrazione che succede? Perché non è che si cede la posizione, se la fa prendere di forza perché l'auto bianca e blu non cede il passo. Quindi la stessa macchina nera e rossa però, guardate qua, entro e sfondo tutti. Non c'è il diritto di traiettoria qui. Io la rimetterei. Lo spazio per entrare. Ce l'ha. C'è lo spazio tranquillamente per girare. Ora, passa e poi deve insistere perché perché siccome ha toccato la macchina bianca si è leggermente girata e questo in quadratura non si vede e quindi conseguenze ti vanno a toccare. Ragazzi, ma perché forzare la mano? Qui altro caso, diciamo che la macchina rossa e bianca ha un po' rallentato ma chi sta dietro non ha anticipato, non ha pensato, io faccio un'altra traiettoria, bim bum bam, vado fuori e poi la sequenza della risparmio perché alla fine, che succede? Succede che l'auto gialla va via e non va bene neanche questo. Torniamo in quest'azione in cui io sono stato un po' ingannato dalla dinamica. Sembra, e ve lo faccio vedere, questa è la velocità normale, che l'auto blu sia colpevole. Invece no, perché guardate un poco, l'azione è bellissima, sono all'interno, l'auto blu lascia lo spazio e ping! Senza fare nomi, Vincenzo, nel tuo video dici che credo di sapere che abbia torto e qui te lo garantisco io, sei tu perché sei andato dritto, ma non è giusto per fare l'appunto e per fare una precisazione in merito a questa azione qui. Quindi sempre fare attenzione alla propria posizione della macchina, in quel caso lì la macchina, quindi all'occorrenza Vincenzo, deve stringere. Quindi se tu, tu in generale, vuoi fare un sorpasso, sei tu che devi modificare la tua traiettoria. Soprattutto se tu devi fare uno stretto, largo stretto, devi fare in modo tale che l'altra macchina passi. Il contatto ci sta, ragazzi, però non deve portare danno a nessuno. In quel caso lì, Vincenzo potrà confermarlo, si sono girati entrambi e anche la macchina che sopra aggiungeva ha subito danni. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, qui al rallentatore, ve lo faccio vedere, praticamente qui anche l'azione della macchina gialla, vorrei tornarci su, la macchina gialla che in pratica che succede? Si allarga, vado direttamente a cercare l'interno della curva, non guardo assolutamente se ho qualcuno a sinistra e che succede? Mi giro e in più va la macchina dietro, rossa e nera, vado dentro, non ricalzo il piede, non importa. Qui altra situazione, siamo al Mugello questa volta, quello che succede è molto semplice. L'attacco è bellissimo, quello dell'auto rossa, che sta comunque in traiettoria, che si è un po' allargato, quindi comunque l'auto bianca doveva lasciarsi un po' buttare all'esterno perché comunque la pista è larga. Che succede? No, io vado direttamente a stringere e si vede palesemente c'è la macchina rossa, è già davanti, quindi la macchina bianca deve vederla la macchina accanto. Non è che non può vederla, è che c'è l'FOV, il field of view di 10 gradi, e che cavolo, i paraocchi, e mica stiamo giocando ai cavalli. Qua siamo sulle auto, si vede. Mi chiedo perché stringere in questo modo? Ti devi allargare, è passato. E guardate le conseguenze. Ancora una volta l'auto bianca e rossa è fuori e come rientra? A cannone. E chi subisce le conseguenze è l'auto blu. Quindi pensate alle conseguenze. incidente, vado fuori, quello rientra a cannone perché non guarda niente, e quello dietro pure sarà la stessa cosa, più o meno, e si crea un incidente di uno che stava dietro che ha guadagnato la sua posizione e non c'entrava nulla nell'azione. Andiamo avanti. Qui, sempre per una questione di anticipo, l'auto gialla sta per effettuare un soppasso a star o touring e ritarda di parecchio la sua frenata. E bing! Che succede? va addosso alla macchina verde. Ci metterà comunque mezzo giro per accedere la posizione, il che è bello, però vorrei analizzare questo fatto qua. Comportamento in pista e in frenata, avevo spiegato in un video precedente, vi invito ad andare a vederlo se non l'avete visto, lo trovate sul canale, vi avevo spiegato che quando si corre con qualcun altro bisogna fare attenzione a tutto quello che è la distanza e lo spazio di frenata. In questo caso, fare una staccata, in questo punto qui al Mugello, mi sembra che sugli 80 metri fosse quasi il limite, 75, dipende anche dalla guida e dalla velocità. Mettiamo caso, anche se sapendo che normalmente qui sia a pieno gas e sia a 240 all'ora, d'accordo, che credo che voglia dire 60,66 metri secondo. Ora, scendiamo a 200 km all'ora, il che vuol dire più o meno 53 metri al secondo. Ho calcolato bene, ragazzi, se lascio andare, c'è un ritardo di 8 decimi di secondo della frenata per avere la staccata più lunga. Il problema è che, se considero i 100 metri, considero 8 decimi di secondo, che sono tanti per una frenata, sono all'incirca 40 metri di ritardo. 100 metri meno 40, a casa mia fa 60 metri. La staccata non la fai più 80, ma ha 60. E quindi c'hai 20 metri di ritardo. E che succede? Pam! Se guardate l'immagine, fermo immagine, la curva, la gialla, non l'avrebbe mai chiusa. La chiude perché? Perché c'è la verde. Quindi anche qui è una questione di anticipo. E nella vita reale avremo fatto due funerali. Quindi l'anticipo è sempre la stessa cosa. Anticipare, anticipare. Andiamo avanti. Siamo ad Imola, quindi siamo alla primissima curva. Allora, porto la vostra attenzione sulla macchina blu e bianca qui, accanto a questa qui, fucsia e bianca. La sua traiettoria è legittima perché segue la strada ed è avanti a quella fucsia. Che succede? Che quella fucsia, però, chiude la traiettoria. La tocca e guardate che succede. Incidente. Ora, perché questa linea all'interno? Cioè la macchina viola ha tutto lo spazio a destra, cioè ha la sua carreggiata. Vi dico subito che era uscito nell'erba, si è rimessa. Io ho guardato bene quello che succedeva, dopo parecchi metri era in linea con il suo asse. Ora, la macchina blu è davanti. Anche qui, come fa a non vederla la macchina? Perché devi andare a toccarlo sulla sinistra? E le conseguenze sono un mega incidente alla prima curva. E la macchina bianca e blu ne subisce perché poi si ritira. Andiamo qui, sempre solito esempio, la macchina, la seconda che vediamo, partendo dal basso, è uscita dal tracciato completamente, non è un taglietto, quindi perde tutti i diritti. E che succede? Io la botta gliela devo dare perché devo andare a stringere sulla mia destra per impostare la mia curva. Sbagliato! Devi stare sulla tua traiettoria perché stanno arrivando a cannone dietro e tu sei uscito di pista. Non puoi rientrare così, è lo stesso discorso. Torniamo qui, siamo sempre ad Imola, quindi l'attenzione sulla macchina bianca. No, sì, sulla macchina bianca. Ecco, sta facendo la sua traiettoria. Ora, in questo caso mi potreste dire, e vabbè ma no, assolutamente. La macchina bianca ha la sua traiettoria, sta lasciando il passo e la macchina gialla e nera che sta chiudendo senza lasciare possibilità alla bianca di poter passare. Uno non deve intralciare l'altro. L'optipasso lasciandogli la possibilità di contrattaccare. Posso chiudere quando ti ho fatto il sorpasso, ma non ora. Non ora, assolutamente. Quindi, lo rimettiamo, guardate qua, pam, chiude e non va bene. Infatti poi c'è anche l'incidente. Quindi ragazzi, questi erano gli esempi che volevo farvi vedere. Ci sarebbero altri casi, però adesso non voglio far durare due ore il video per neanche annoiarvi. Vi è solo per farvi prendere coscienza di quale sono le azioni che hanno portato gli incidenti e cosa bisogna fare. La prima cosa è anticipare praticamente tutto. La seconda cosa è armarsi di strumentazioni che vi possa permettere di sapere esattamente chi avete intorno a voi. Terza cosa, prendere coscienza che le auto non possono scomparire, che bisogna lasciare comunque lo spazio per far passare un'auto se non si ha il diritto di traiettoria. Quale il diritto di traiettoria è che sono in traiettoria, sto già facendo la mia curva, non posso chiudere a destra e a sinistra, soprattutto quando c'è battaglia. E questo bisogna assolutamente metterselo in testa. E poi ci vuole il buon senso. Il buon senso sta nel fatto che io non posso entrare a cannone in una curva a 100 all'ora se normalmente la faccio a 60 perché voglio andare a guadagnare una posizione. Non esiste assolutamente. Un'altra cosa ragazzi è anche il fatto di far fronte alla realtà dei fatti. Se voi girate in 1.20 e chi ha fatto l'Apollo gira in 1.15 in gara, ma come cavolo fate voi a fare 1.15, 1.16? Bisogna mettersi al proprio ritmo. Io l'ho già detto sul comportamento in pista nel video precedente, io se faccio 1.20 in pista, in gara, con il peso dell'auto, con l'assetto un po' modificato, eccetera, eccetera, mi metterò a 1 o 2 secondi, in modo tale da non essere impiccato in pista, da non consumare le gomme e soprattutto da non fare errori grossolani che mi fanno perdere altri secondi preziosi. Perché se cercate di girare sempre a un giro elevatissimo per cercare di superarvi, sarete impiccatissimi e quindi raddoppiate, triplicate, quintuplicate le possibilità di fare errori. Bisogna guidare tranquilli, ragazzi, e pensare a fare una bella gara pulita senza toccare nessuno e cercare di portare più punti possibile rispettando gli altri. Ragazzi, spero di non avervi annoiato con questo discorso qua, però ci tenevo a farlo, fare un'analisi completa insieme a voi di quelle che sono le azioni che bisognerebbe evitare per farci prendere a tutti coscienza. Non è nulla di cattivo questo video, ragazzi, è veramente solo per un attimino riflettere insieme. Come dicevo, se comunque l'iniziativa vi è piaciuta, pollice in su. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, lasciatemi un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabrice è tutto. Ciao. Ciao.